Staffetta di Natale al Club Sportivo Urania, Guido Dioguardi è il modo migliore per chiudere una stagione ancora una volta da incorniciare? Assolutamente sì, non poteva mancare anche quest'anno come tradizione la nostra staffetta di Natale, sempre più frequentata, sempre più allegra, colorata e numerosa e diciamo che in effetti è proprio il modo migliore per chiudere con tutti questi ragazzi che si daranno battaglia nella nostra sede. Una grandissima partecipazione, oltre 100 ragazzi? Sì, è sempre frutto di quel modo di interpretare il canottaggio che abbiamo, cioè il canottaggio veramente per tutti fatto in modo che possa essere prima che uno sport altamente interessante come è, ma uno sport di gruppo e che del gruppo faccia proprio la sua forza. La vittoria del Paglio di San Pietro, la terza affermazione della classifica nazionale della FIXF, quest'anno anche la stella di bronzo per i 90 anni del vostro Storizzi? Beh certo, di più non potevamo chiedere, no, lo vedremo il prossimo anno, però sì, parlando seriamente, in effetti mi piace pensare che sia il frutto di quello che abbiamo fatto in questi anni e in effetti penso che sia così. Come ben sai siamo partiti in pochi, abbiamo fatto in modo, ma con tanta passione di riportare la società ai vecchi fasti, ma così forse non me lo aspettavo neanche io. Nota ancora di merito il fatto che oggi siano presenti tante società liguri, segnale che l'amicizia sviluppata non conosce soste. Parlavo prima di gruppo. Quando parlo di gruppo non parlo solo di gruppo all'interno di una società sportiva, ma anche un gruppo che viene formato tra atleti di società diverse. Si creano amicizie extra sport, extra canottaggio, si creano gruppi paralleli a gruppo della società che portano poi a questo interesse totale verso lo sport e un'amicizia che è trasversale perché poi come potrai vedere ci sono ragazzini che vanno dai 9-10 anni fino ai 30 anni, 40 anni, 50 anni che trasversalmente poi fanno amicizia con altre società e questo non c'è niente di più bello. Lo sport è questo per me.